Vantaggio alla formazione etnea con Alessandro Marotta ha segnato il diavolo sulla sponda di Curiale il diagonale a battere Gambi e dopo 12 secondi già 1-0 tutta in discesa questa partita per la formazione siciliana mani tra i capelli per Luca Busco eppure il tempo di sistemarsi è in Catania è già avanti 1-0 per Alessandro Marotta questo è il secondo gol in campionato che prima l'aveva siglato proprio pochi giorni fa